Benvenuti a TFFDoc, l'unica cosa che ho è la bellezza del mondo. Come avete intuito, se avete visto qualche altro film di questo piccolo spazio che abbiamo creato all'interno della sezione documentaria del festival è un nostro tentativo non solo di contemplare attraverso le immagini dei film che vi abbiamo proposto la bellezza del mondo, di lavorare anche sulle parole e sulla loro bellezza. Stasera lavoreremo, vedremo un film che non è solo un percorso attraverso i movimenti europei degli ultimi 50 anni, ma è anche un film che lavora con le immagini, i testi e la musica sullo stato del mondo. Il film si chiama Passione, zwischen rivolte und resignazion, passione tra rivolta e rassegnazione. C'è qua il regista Christian Laphart. Christian, vuoi dire qualcosa sul film? Sì, non mi piace di molto parlare prima del film. Due cose. La prima, sono molto molto felice che Biffo è qui. Biffo Berardi, c'è un testo in film di lui e io sono un grande fan. Si dice fan? Si dice fan. 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 Il secondo, c'era una domanda. durante tutto il processo di questo film una domanda. Questa domanda era perché il capitalismo sta? Allora, che sono le strutture, anche dentro me, dentro noi, che fanno stare il capitalismo? Perché il capitalismo non è capace di risolvere nulla. E questa domanda forse troviamo una risposta dopo il film con Biffo. infatti dopo il film avremo modo di incontrare, discutere e di ascoltare Franco Berardi, che è qua con noi. Non so se ci darà la risposta definitiva. No, no, no. Ma una cosa, qui, questo posto, non è bene. Tu devi andare un po'... Perché è terribile qui. No, a me piace il quad avanti, ma io sono fatto a modo mio e ognuno ha fatto a modo suo. Allora, buona visione.